Ciao a tutti, qui lo posso scrivere, non siamo con il Nat Ciao John, grazie mille John Grazie mille per i 5 mesi, vi bentornato anche a te Bella Flio Ciao Coca Un giorno fa una vera dove ci alleniamo tutti insieme? Va bene Si può fare, perché no? Allora, vediamo un attimino Giungla, eh Karim E' una bellissima idea Adesso me la scrivo pure Devo abbandere Udil, vero? Allora, Whatsapp E un cervello su YouTube Allora Insta, Whatsapp Copia Stories Devo piccare, meno male Potevo blendare Brown, forse Devo Vai, già mi stupido Mi hai tenuto compagnia un secco di volte Un secondo Un secondo Metto il link per YouTube E' solo vostro ragazzi Fatto Gizu Gizu King Grazie mille per i 10 mesi Fabri con il primo mese Gizu sei gentilissimo Fabri benvenuto Allora, Trescione Anche c'è una bella team comp Ok Ci abbiamo Ulier Mi piace Secondo fiato Si Li uccidiamo Si Hanno tanti stun No, vediamo questo Armatura Va bene Ok Let's go boys Concili per migliore con Yasuo Ragazzi, guardatevi qualche mia live Non fate quello che faccio Siete a posto Bella Petru Grazie mille per i 6 mesi Come stai Stellina? Ti ho appena risposto su Instagram Mi immagino Mi spiegate cos'è 22 Montflower Non è facile da spiegare Ci siamo boys Si che ci siamo Si, si che ci siamo Ragazzi Good luck and death Fanboys Startiamo di Di Q ovviamente Close call Va bene, va bene Sempre, sempre osare Osare sempre Mai, mai avere paura di sbagliare Never 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 Che sei carino Tu conti tanto Grazie Buongiorno Creepy Ciao a tutti ragazzi Benagrati Scusate Vi saluto uno a uno Ma Dopo vi risaluto Abbiamo l'aprio Che palle Ma mi sa che quello è il momento migliore per grabare in ogni caso Però era meglio non grabare il mio, no? Abbiamo smesso di prendere queste bombe, amico Zillian Hai finito il tuo reggine di terrore Sì, certo Puoi fare quello che vuoi Finché non fai male agli altri Piccolo trader in amicizia Vogliamo di più la mia mappa Va, già mi stupido Ciao Paolo Sai perché detto sempre l'uso Se vinci sono comunque felice Perché lo sei anche tu Se perdi io vinco Quindi almeno uno di noi due E contento di durac per il game In ore di tre Lo fanno anche i fan delle squadre di calcio Sai? Mi ricordo Ma non è un grandissimo push Secondo me l'ha fatto male Prima delle gin Prima delle gin Rommiamo poco Potremmo trovarci in Sirian Ma dubito Va, già mi stupido Io rimacerei midline, sai Ho anche il flash Mi fa male il cuore, ragazzi Non volevo Non voleva doggiare Era solamente così Innocuo Oh, che è successo? Udi è molto forte contro loro Molto, molto forte Bravo, bravo, bravo Che poi è molto inaspettata Una cosa del genere L'IPS intendo proprio Lui non c'è nemmeno la shin Però quello mi buca Assist? No, non ce l'ho più Bravissimo E guarda cosa schifo Well played, zilla Allora Allora Fare i complimenti Agli avversari Non so mai Se è giusto o sbagliato Perché C'è chi si calvanizza E poi Abbassa la guardia E c'è chi Lo prende come Presa per il culo Qui potremmo ammazzarne uno Ah, l'ha perso Che palla C'è un buco Anche simile Anche palla Se c'è master Io mi tengo Alla portata Di Di lanterna Non si vede Buggata Grave Ma è bug Stavo pure posizione No Spot anche rides Forse pure masterie Se l'ultavi Lo ammazzavo Eh Back to the bottom Comunque Non dovevo forzare Ci sono eh Ci sono molto forte Non dovevo forzare No 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 dovevo forzare Ce l'abbiamo Ah non abbiamo ancora Ah fammi se ce l'abbiamo Sì 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 Perfetto Allora mi faccio i tabby AD 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 AP AP Tabby mi sembra un bello forte Molto forte Ehm Anche coldar redaction mi piacciono Mi faccio coldar redaction Questo bec è fortissimo Lui non ha ancora la quest Io sì Udile sta diventando grossissimo Ehm Ed è forte contro Tutto il loro team Tanto e Zilean forse Con l'inghetti moriva Non c'è di no Ho missato Com'è possibile Sto facendo super cagare Ragazzi Vabbè in realtà è la partita di scaldamento Ci sta Anzi Sto giocando fin troppo bene Per questa prima partita Questa è molto buona Questa è molto buona Oh morirò per questi due minuti Ok Ok Benissimo Questa cosa è molto buona Per noi Mi prendo Magica esistence Sì dai Anche perché con la passiva Fai più armatura E Zilean comunque è molto molto forte Ragazzi Lo dico io Comunque Non è difficile Perché quando giochi con persone forti Devi giocare solamente meglio di loro E basta Non ti serve altro Quella era una buonissima intuizione Oh Non ti serve altro C'è un buco? No Mi fa una roba anche a pagarlo Vorrei levare quella Beh già se gli guardo oltre il costo non ho più paura Potremmo prendere la mid lane C'è ragione Jin Ma è bad Questo è buono? Ti prego una cosa buona la posso fare anch'io Niente aspetta troppo Poi muore pure Aggesitate Anzi ste partite sono troppo facili Un'auto Mamma mia la smarfata Non è bastato Ah ma quelle due cose sono rotte Mi sa che mi devo fare i tab in sto game Però secondo me sarà molto utile Posso prendere la mid lane Sì penso che siano facili perché Non ci sono talenti Non c'è gente che fa paura qua Sono tutti normali Basta che non sbagli Non c'è gente che fa paura qua C'è un buco C'è un buco Questa breve 200 gold Stiamo iniziando a fare un po' di soldi Che se è un errore Ma anche così per ridere Ok 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 Paracloss Questa è un'altra Questa è una pressa Oh madre di dio Che palle Vabbè La pressa la stiamo vincendo noi Adesso regoliamo che ci abbiamo Un item importante Era bello avere anche una pink Innanzitutto Un saluto a clavicola Che manca E scusami per la sub scammata Larry Due baci Allora come facciamo a vincere Ma Boh Non fare un cazzo E vinciamo di Uder Il livello della partita è altissimo E' molto difficile Grabbarli Perché sono molto veloci E hanno tanta mobilità Basta che non li grabbi E stai a posto E non dodge Questo era un bel Un bel tentativo Però forse non dovevo farlo Nel senso che era Era meglio aspettare Ha colpito Benissimo Non hanno mai paura di morire Questo è gravissimo Perché devono avere sempre paura di morire Di tuo avversario Io ho paura di morire Anzi Non ho più paura Perché lo so Non sapevano del loro posizionamento Ha rotto il cazzo My bad swords Prendiamo HP Pink Questa è la cosa più veloce del mondo Potrebbe essere Albano ragazzi No Abbiamo quattro draghi Voglio dire È veramente rotto questo game Adesso Prendiamo Ilip Megan oh la mia prima giocata buona non muoio ragazzi ho preso un flash che gioia gioco per baron ah hanno chiarato il coso perchè non è morto capito non li ha impariti non so se è giusto quello che ho fatto la soppa del baron si giocato per drake loro sono molto in ritardo a rivenderebbe avere il tp ragazzi vi dirò secondo me sto giocando troppo bene e vedete parlo ma che cazzo dici c'è 0-4-0 sto facendo che sono serio secondo me questa partita è perfetta porca puttana due assis wow baron ragazzi sto facendo davvero dei big rub non me ne entra un non me ne entra un no non ho capito dove è morta quella ma è su come grabbare delle persone che non si fanno grabbare è una bella domanda come grabbare qualcuno che pensa costantemente al tuo grab e ci gioca attorno secondo me non grabbi finché non c'è uno stun te lo tieni perché è un livello troppo alto ok 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 quando lo tocca lo uccido quando lo tocca lo uccido se non lo tocca non lo grabbo eh bene ci gioca troppo bene attorno bene ci gioca troppo bene attorno mi faccio il nello tocca mi faccio il nezzo abbiamo imparato una cosa se gli avversari sono troppo forti aspetta il più tempo possibile e grabba solamente quando sei sicuro che grabbi tutte le gioco tutte le gioco tutte le gioco quindi con i domani so fare ragazzi, se sono più deboli di me li picchio, è come se giocassi a silver o a platio ricordatevi ragazzi picchiate solamente le persone più deboli di voi gli altri no salve non ve la fate mai con i più forti sempre con i più deboli quello è incredibile ma veramente lo faccio giusto per allenarmi però incredibile ma veramente non lo grabbi mettiti l'anima in pace e dici vabbè non ci provare non ci provare 300 minion 2-0-2 losing team un professionista sei tiltato ma che cazzo dici tu non lo grabbi e chi lo deve grabbare tu di sicuro no non ci giochi contro di lui e almeno c'ho la possibilità oi oi la vision è molto buona come la sto tappando il knight dobbiamo decidere se darlo a gina udiar secondo me è meglio grave non me l'aspettavo se muore anche lui è gravissimo lui muore muore pure orian fanno il baron mamma mia mi sono distratto ragazzi ricordiamoci l'obiettivo ricordiamoci cosa dobbiamo fare e cosa vogliamo fare adesso potremmo perdere il game perché quello che è successo è gravissimo ma se gli zilian potrebbero tirarci dritti gino da summon spell e loro scavavano molto bene ma meglio ancora ci alleniamo di più così altrimenti era troppo facile vorrei il carretto che sfiga così a casaccio Vada, mi scordi, no? Che bello, ragazzi, che bello, hai visto? Facilissimo.